L'esercito in prima linea con caserme aperte, iniziativa con la quale il nono reggimento alpini dell'Aquila in occasione delle celebrazioni del 4 novembre scorso ha aperto al pubblico la caserma aquilana. Qui i visitatori, che sono stati davvero tantissimi, hanno potuto ammirare innanzitutto lo splendido museo storico del reggimento che ha l'obiettivo di far conoscere anche ai più giovani la storia, ma non solo perché gli alpini hanno messo in piedi anche una mostra statica nel piazzale della caserma di materiali e mezzi che hanno in dotazione per le attività quotidiane, tantissimi bambini che hanno voluto conoscere più da vicino i mezzi, osservandoli da vicino, osservando tutti gli equipaggiamenti e mezzi di lavoro dell'esercito. Tra questi c'erano anche quelli del battaglione Vicenza, unità multifunzionale di recente costituzione, creata per l'impiego duale della Forza Armata, per le pubbliche calamità in questo caso, che già in più di un'occasione in sinergia con le altre istituzioni, si è dimostrata un'ottima intuizione, una risorsa moderna è flessibile a seconda delle esigenze e sempre per la sicurezza dei cittadini. I visitatori hanno potuto conoscere anche la sala radio, il percorso storico riprodotto e una trincea della grande guerra.